cose dell'altro mondo ma veramente cioè praticamente toto wolf deve vendere la sua ferrari ha comprato una ferrari la ferrari all'epoca per un milione e mezzo di euro e la deve vendere perché sostanzialmente non può usarla mercedes gli impone di non poter usare questa vettura fa ridere raga perché francamente tutti attaccati al marchio mercedes però emilton si compra la ferrari toto wolf ha la ferrari e la deve vendere cioè cose assurde io credo che l'esclusività di una ferrari non verrà mai intaccata da una mercedes qualsiasi che è una vettura molto meno esclusiva e io credo che se emilton avesse potuto e anche toto wolf avrebbero fatto veramente i salti mortali per lavorare in ferrari le cose vanno diversamente chiaramente io credo che ferrari abbia fatto bene a non averli perché ha una sua identità molto più latina molto più italiana bene così